Le cause andrebbero tempestivamente individuate e sarebbe più che mai opportuno seguire la strada di un monitoraggio e controllo costante e continuo della rete fognaria nella sua interezza al fine di verificare l'immissione di scarichi non autorizzati lungo il suo corso. In questo modo l'associazione politica e sociale Sapri Cambia interviene sul ritorno del divieto di balneazione sulla spiaggia dei 300 a Sapri. Non è la prima volta quest'anno e purtroppo è stato necessario sottolinearne la ripetitività per evidenziare che inevitabilmente sarebbe stata necessaria una maggiore attività di controllo da parte di chi è preposto a questo tipo di azioni. Perché è vero che gli interventi dell'ARPAC sono ripetuti e cadenzati ma proprio in questo lasso di tempo la necessità di verificare se lungo il percorso della rete fognaria ci fossero delle intromissioni abusive diventava una priorità. Sapri Cambia ha da ridire anche i suoi lavori in corso in piazza Plebiscito. Cos'è che secondo lei non va? Innanzitutto le dimensioni del sagrato che mi sembrano possono essere paragonate ad una piccola piazza San Pietro il giorno dell'elezione del Papa mi sembra assolutamente fuori luogo. Secondariamente aver ridotto il tracciato stradale dopo aver garantito agli operatori di settore maggiori spazi e maggiore fruibilità delle aree, cosa che poi puntualmente è stata smentita nel tempo, ha ridotto poi quella che è l'utilizzo della piazza stessa. E questo poi di conseguenza ha limitato l'afflusso su via Cassandra, ha costretto anche ad evitare l'isola pedonale sul lungomare ma mi pare logica ed evidente che dopo aver superato questa fase una decisione sia necessario prenderla definitivamente. Anche perché non dimentichiamo che riprendendo le scuole in piazza Plebiscito c'è un afflusso e un movimento che porta alla scuola Dante Alighieri. Quindi questo come sarà gestito? Mi sembra che misure urgenti siano assolutamente necessarie, non un rinvio, un procrastinare decisioni che mi pare sia invece una prassi abituale di questa giunta.